del Rettore proprio per l'orientamento. Grazie ancora e ci troveremo per le varie iniziative, cioè per documentare tutte queste iniziative delle quali abbiamo parlato e tutte quelle che ancora saranno, che ancora magari sono in fieri. Grazie ancora per questa presenza alla professoressa Martellotti. Chiudiamo il nostro programma di questa sera con un servizio che abbiamo realizzato completamente in esterna. Ci siamo andati ad occupare di un progetto europeo realizzato appunto dall'Ateneo di Perugia come capofila al Dipartimento di Ingegneria e in particolar modo alcune aziende, alcuni enti locali su un tema di grande attualità e di grande importanza in termini di impatto ambientale, cioè quello dello smaltimento dei rifiuti. Il progetto si chiama LIFE, è un progetto europeo e ne abbiamo parlato sul campo con un'azienda e con il professore Di Maria in rappresentanza dell'Ateneo di Perugia e del Dipartimento di Ingegneria. Troviamo presso gli uffici della direzione della Gesenu SPA proprio quest'oggi per parlare di un progetto di cui è capofila l'Ateneo di Perugia ma che viene coinvolti i diversi soggetti di natura istituzionale ma anche prettamente aziendale. Con il professor Di Maria per il ruolo dell'università e per ricordare che cos'è LIFE, quando nasce e sulla base di quali obiettivi. I progetti LIFE sono dei progetti che la Commissione Europea ogni anno mette a disposizione di tutti coloro che abbiano la titolarità e la volontà di introdurre innovazioni in quelle pratiche che hanno una rilevanza ambientale per cui i rifiuti sicuramente rientrano in queste pratiche. Il progetto LIFE ci è stato finanziato nel 2012 e è costituito da un partenariato complesso e io voglio dire che questo progetto è anche una dimostrazione di come sia possibile mettere insieme diverse componenti della società, parliamo dell'università, quindi della formazione della ricerca, parliamo delle istituzioni, Regione Umbria e Comune, parliamo delle aziende, GESENU e TSA per dare risposte concrete a problemi concreti. È un progetto che solitamente si posiziona a valle di un'attività di ricerca che è già stata fatta per implementare i risultati della ricerca. Il progetto è partito a dicembre del 2013 e si concluderà a dicembre del 2015. L'obiettivo è quello quindi di introdurre innovazione nel sistema di gestione dei rifiuti finalizzato a comunque aumentare la sostenibilità ambientale a 360 gradi, a vedere sempre di più il rifiuto come una risorsa ma cambiando anche l'approccio rispetto ad alcuni flussi particolari di rifiuti, soprattutto quei rifiuti che spesso vengono considerati marginali o residuali perché all'interno di questi rifiuti è presente ancora un'importante quantità di materia prima riciclabile e anche molto utile e strategica all'industria occidentale, quella di elevato contenuto tecnologico. Industria che purtroppo è fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento di questi materiali. Il progetto LIFE, grazie al supporto delle aziende e partner in questo progetto, vuole proprio perseguire l'implementazione e la dimostrazione di come sia possibile fare queste cose affinché queste cose diventino delle pratiche di routine e quindi diano una risposta alla problematica. Ci ha parlato di partner istituzionali, ha ricordato la regione dell'Umbria e anche le comune di Magione per esempio che comunque sono chiamati l'uno a programmare e l'altro ad attuare, quelle che sono le pratiche relative ai rifiuti. I partner aziendali, il principale dei quali forse oggi ci sta ospitando, cioè Geseno? Certamente, Geseno, tutti la conosciamo, l'ingegnere Sassaroli dopo chiaramente ci racconterà meglio. Geseno interviene all'interno delle attività progettuali grazie alla impiantistica che storicamente l'ha sempre caratterizzata. È stata sicuramente un'azienda pionieristica da questo punto di vista, introducendo delle pratiche nel trattamento tecnologico dei rifiuti perché spesso questo aspetto forse nella sensazione e percezione comune che si ha del problema dei rifiuti sfugge. Nel settore dei rifiuti esiste una parte tecnologica, impiantistica di primo livello e che si sta sviluppando e implementando sempre più. Oggi tecnologie direi che sono all'avanguardia in parecchi settori dell'industria normale sono sempre più utilizzate nel settore dei rifiuti. Geseno dispone di queste tecnologie, l'obiettivo è cercare di ottimizzarle sia dal punto di vista proprio della tecnologia stessa ma anche del concetto di assemblamento delle diverse tecnologie per massimizzare l'obiettivo, cioè estrarre materia riciclabile e quindi migliorare la gestione dei rifiuti. Sottolineo a dire anche una cosa che tutto questo avrà anche una ricaduta finale sull'utente che il cittadino. E' chiaramente un sistema di gestione più attento all'ambiente che valorizza meglio quello che il cittadino tira fuori, è chiaro che avrà poi delle ricadute anche di vantaggi pratici per il cittadino stesso. Ingegnere, siamo ospiti presso la sede, addirittura nel suo ufficio. Il ruolo di Geseno in questo progetto e l'interesse che immagino Geseno abbia dimostrato per il progetto stesso non appena lo stesso è partito? La gestione dei rifiuti è il nostro mestiere, quindi come tale cerchiamo di farlo al meglio e di utilizzare le tecnologie, la ricerca e tutto quello che può aiutarci a migliorare il servizio che noi facciamo ai cittadini. Nell'ambito di questo progetto noi abbiamo il compito di approfondire la ricerca sul fronte del miglioramento dei prodotti recuperabili. Come voi sapete ormai l'era delle discariche è terminata, la comunità europea indica il ricorso in discarica come ultima spiaggia dopo aver fatto tutto quello che è possibile per il recupero dei materiali. Il recupero si fa attraverso la pratica della raccolta differenziata, viene demandata principalmente all'utente che in casa deve separare la carta, la plastica e tutte le altre cose e poi comunque c'è un residuo, quello che noi chiamiamo indifferenziato, che ancora in termini quantitativi costituisce una parte importante perché parliamo del 30-40% della totalità dei rifiuti che comunque costituisce un problema. L'attenzione e quindi la ricerca si riferisce a che da questo 40% dei rifiuti che ripeto in termini quantitativi, in termini di tonnellate parliamo sempre di decine di migliaia di tonnellate all'anno nel nostro territorio, cerchiamo di capire e di applicare le tecnologie migliori per rendere questi rifiuti dei prodotti che possono essere riutilizzati nel settore energetico, nel settore industriale in genere e quindi sottratti alla discarica. Questo con l'obiettivo insomma di ridurre al minimo il ricorso alla discarica che come ripeto a parte le direttive europee e nazionali poi costituisce un problema di natura proprio ambientale perché le discariche sono difficili ad aprire, sono difficili a gestire, sono difficili quindi a mantenere. E quindi noi rispetto al progetto abbiamo questo compito che portiamo avanti con grande interesse insieme all'università perché pensiamo che migliorare la pratica e le tecnologie del recupero possa migliorare il servizio che facciamo ai cittadini cercando di sostituire un po' la tecnologia anche all'opera manuale della raccolta differenziata che ai cittadini oggi viene richiesta. E questo per un miglioramento complessivo sia in Umbria dove noi operiamo con i nostri impianti di Perugia, Pietra Melina, Borgo Giulione per quello che riguarda la TSA, ma anche in altre parti d'Italia dove gestiamo impianti simili a questi Umbri. Mi riferisco alle Marche in particolare e al Lazio e in Sardegna. Ci avete quindi anticipato quello che è il focus di questo progetto di cui l'Ateneo di Perugia è capofila ma di cui Gesenu è evidentemente partner nevralgico, quello di consentire un recupero, una trasformazione in materie prime anche del cosiddetto rifiuto indifferenziato che fino ad ora era stato sempre ritenuto, forse tradizionalmente, ma magari sbagliando e la ricerca serve proprio anche a questo, era stato ritenuto un rifiuto destinato allo smaltimento, quindi comunque a non essere riutilizzato. Questo è un progetto, da quello che ci avete intanto anticipato, destinato a cambiare questa logica nell'ambito della raccolta dei rifiuti. Ora andiamo con entrambi i nostri ospiti all'impianto che si occupa proprio dello smaltimento e quindi della parte meccanica in qualche modo di questo progetto che si trova proprio presso l'Ateneo, sede di Perugia. Come anticipavamo ci troviamo ora presso l'impianto che si trova presso l'Ateneo di Perugia. Qual è il ciclo che i rifiuti seguono in questo impianto, ingegnere? Nelle fosse che sono alle nostre spalle vengono scaricati rifiuti indifferenziati che vengono raccolti in tutti i comuni del lati numero 1 e del lati numero 2, praticamente l'intera provincia di Perugia. La prima lavorazione che subiscono questi rifiuti è la rottura dei sacchi e poi la selezione fra la parte combustibile, la parte più ricca di materiale diciamo all'alto potere calorifico, che sono le balle che vediamo alla nostra destra che costituiscono il materiale di base per poter essere poi convertito e utilizzato per il recupero energetico, il combustibile solido secondario. La frazione più piccola viene invece selezionata, vagliata e destinata a un processo di stabilizzazione aerobico per essere poi collocato in discarica. In tutto questo ciclo poi ci sono i momenti di recupero del ferro, di materiali ferrosi, dei metalli, che poi dopo andremo giù a vedere. Professore, ci può spiegare dove siamo e che cosa avviene in questo impianto alle nostre spalle? Ecco, questa è la parte più tecnologica di tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti che stiamo vedendo. Allora, qui è proprio incentrato l'interesse del progetto LIFE. La parte del rifiuto secco che viene separato sopra, che viene pressato in quella macchina speciale, viene reinserito in questo nuovo impianto. Questo è un impianto rotato di tecnologie innovative, basate sulla separazione dimensionale, sulla separazione gravimetrica, sulla separazione balistica e sulla separazione ottica. particolari macchine riescono a riconoscere particolari tipi di materiali e a estrarli da questo flusso di rifiuti. Praticamente da quel flusso di rifiuti che avevamo prima si ottengono dei flussi ordinati di materia riciclabile. E questo è uno degli obiettivi che noi vogliamo ottimizzare e massimizzare proprio per i vantaggi che questo comporta. Ci siamo trasferiti presso il Dipartimento in Ingegneria dell'Ateneo di Perugia. In particolare siamo in realtà in esterna perché alle nostre spalle, professore, che cosa c'è? Ci spieghi. Allora, alle nostre spalle abbiamo questo mezzo che è un altro aspetto del progetto LIFE. è un mezzo dedicato all'intercettazione alla fonte, quindi una raccolta differenziata, di particolari flussi di rifiuti. I flussi di rifiuti, come dicevo prima, strategici, perché non sono prodotti in quantitativi importanti come gli altri flussi di rifiuti tradizionali. però sono particolarmente ricchi, in maniera praticamente con concentrazioni del tutto paragonabili a quelle che sono le materie prime, di materiali rari, le cosiddette terre rare, di metalli preziosi quali oro, argento, platino, oltre a rame ed alluminio, che sono molto utili all'industria occidentale, soprattutto quella che produce bene ad elevato contenuto tecnologico, però la stessa industria occidentale è molto dipendente dall'estero. Ora, le tecnologie per estrarre queste materie prime da questi rifiuti ci sono. Il problema è raggiungere le masse critiche, quindi bisogna spingere verso una intercettazione alla fonte sempre più spinta di questi materiali. Il mezzo che vedete alle mie spalle è un'idea di stazione ecologica, cosiddetta ricicleria, mobile, che va incontro ai cittadini per intercettare questi flussi di materia così importanti e satè. Non è l'unica azione che viene messa in campo, ma sicuramente è un'azione importante, perché ha anche un ruolo divulgativo, educativo e conoscitivo per quanto riguarda questo problema. Poi c'è un laboratorio, no, professore, che utilizzate nello svolgimento di questo progetto, l'AIF, ricordiamolo, di ampio respiro, perché è cominciato nel dicembre 2013, terminerà nel dicembre del prossimo anno, 2015, quindi un paio d'anni di lavoro intenso anche per l'Ateneo di Perugia. Certo, sì, il laboratorio si trova alle mie spalle, in realtà questa è una parte del laboratorio di cui sono responsabile, altre zone sono dislocate in altre parti del Dipartimento. Nel laboratorio chiaramente si svolgono anche attività correlate a questo progetto, ma non solo, facciamo anche altre attività di ricerca, di tipo di base, così come viene detto, o comunque finanzata da altri tipi di progetti. Dopo magari ci richiamo dentro. Cosa facciamo? Prevalentemente anche noi ci occupiamo di problematiche di natura ambientale, di processi biologici, e di tutto ciò che consente comunque di ottimizzare lo sfruttamento e l'utilizzo sia dei rifiuti, ma comunque dei scarti e reflui in senso più generale. Vogliamo, in chiusura di questo nostro viaggio all'interno del progetto LIFE, di cui ricordiamo, almeno per quanto concerne questa parte di questa progettazione di natura europea, l'Ateneo di Perugia è capofila. Vogliamo ricordare ancora quali sono i risultati operativi, cioè qual è la ricaduta sociale ed operativa che ci si aspetta al termine di questo lavoro, che è insieme di ricerca e di sperimentazione sul campo e di lavoro appunto meccanico sul campo. Mettendo da parte quelli che sono gli aspetti più scientifici, in senso stretto, occupiamoci di quelle che sono le ricadute nel sociale e per quanto riguarda sull'utente finale. Sicuramente il mezzo che vedete qui dietro è una risposta importante per dare un servizio al cittadino sempre più spinta, sempre più precisa e anche fargli capire cosa viene fatto con il rifiuto che si produce, il valore che ha il rifiuto e il comportamento corretto da parte del cittadino. Ma non solo perché col partner TSA si è messo in piedi un sistema tecnologico di tracciabilità del rifiuto, anche di carta, di plastica eccetera, che consentirà di sapere chi ha prodotto, quanto ha prodotto, cosa ha prodotto. E questo chiaramente ha sia un effetto positivo perché è una responsabilizzazione, un coinvolgimento più diretto del singolo cittadino, ma avrà anche un effetto, una ricaduta sulle tariffe. Cioè si metterà, chiaramente è uno strumento per mettere in piedi sistemi di incentivazione per chi si comporta in maniera virtuosa e chiaramente cercare di correggere chi invece non ha atteggiamenti di tipo virtuoso. Grazie a tutti.